e mangia senza il nutrimento suo, la sua parola, la sua grazia, non ce la possiamo fare a vincere questo vuoto che viviamo in questi tempi particolari. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, riscenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amo. Benediciamo il Signore. Ci prepariamo piano piano per la processione, cerchiamo per quanto è possibile di riderla bene, anche pregando un po'. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.